Il piano è già pronto, restano soltanto da limare gli ultimi dettagli. Il governo Draghi ha lavoro per predisporre, probabilmente entro questo fine settimana, un pacchetto di interventi che serviranno a porre un freno agli aumenti del carburante di tutti i servizi che riguardano l'energia. Le priorità sono naturalmente benzina e gasolio. Per quanto concerne la benzina, si tenterà di seguire il modello di Parigi e Berlino. Il prezzo ai distributori di carburante verrà sussidiato con una riduzione di 15 centesimi per litro. Per quanto concerne invece le bollette che riguardano il consumo dell'energia elettrica, sarà resa possibile una ulteriore rateizzazione che va oltre le 10 previste dagli interventi adottati in precedenza. È prevista inoltre un ulteriore sconto per le famiglie che vivono in stato di disagio in base all'Isee. In arrivo anche gli attesi nuovi aiuti a favore delle attività economiche che sono state colpite duramente dagli aumenti indiscriminati di carburante, luce e gas. Il Ministero per lo Sviluppo Economico presenterà anche un nuovo fondo di sostegno alle imprese di circa 800 milioni di euro. In pratica si tratta di ulteriori ristori che verranno avviati anche attraverso un fondo di garanzia di un miliardo che consentirà di fronteggiare l'esposizione delle imprese verso le banche.